Gli occhieli da sole e il cappellino non sono bastati a camuffarlo. I carabinieri lo hanno riconosciuto e identificato. Un giovane si è introdotto nell'ufficio anagrafe del comune a Pulsano, nel Tarantino, e ha portato via alcuni timbri. Poi ha scassinato un armadietto nella stanza del sindaco rubando un computer portatile e una cassetta che conteneva circa 300 euro. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono risaliti all'identità del ladro. Si tratta di un 21enne rintracciato in casa e trovato in possesso dell'area furtiva prelevata poco prima dagli uffici del comune. Nell'abitazione i militari hanno anche sequestrato quattro piante di marijuana. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e coltivazione illecita e distupefacente.